Care ferrovie dello Stato, ormai nell'Imu che pago c'è anche il frecciarossa perché sto più lì che a casa mia, decisamente. Vi voglio fare tanti auguri di Natale a tutti quanti e visto che a Natale a Natale si fanno i regali, ecco, io vi dico che questa qui sta scadendo. Quindi vedete che dovete fare. Ciao a tutti!